Raga, però vi ho invitati. Ah, ok, non l'ho visto. Emet, io non ti vedo. Iniziamo questi problemi? No, non li vedo. Esci, esci, te li invito. No? Nope. Stanza al completo, impossibile invitare altri giocatori. Vabbè, vabbè, non l'ho visto. Dal momento che le magliette e le felpe Sad Happy hanno avuto un enorme successo, ho deciso di prolungare la loro vendita per altri tre giorni. Pertanto, ragazzi, queste magliette e felpe in edizione limitata saranno disponibili sempre in edizione limitata soltanto fino a venerdì 5 aprile. Dopodiché non saranno più acquistabili. Pertanto, quando non l'aveste ancora fatto, fatelo adesso. Perché altrimenti da sabato in poi non saranno più disponibili. Link allo shop in descrizione. Ciao. Bentornati su Uno. Mi mancava avere pochi amici, quindi ho deciso di perdere quelli che ho acquistato giocando a Uno. Cominciamo. Ma quando è che ci acquistano, scusami? Vi ho pagati, raga. Vi ho mandato 57 centesimi a testa su Paypal. Non è arrivato nulla. Io ho lo screen. Io ho lo screen. Daniel lo screen. Sarà troppo? Raga, era tutto il mio budget del mese di aprile, mi dispiace. Ma no, non c'è M, c'è IA fresco. Fresco? Che cazzo è fresco? Ma fa che cos'è, c'è, raga? Questo è un microfono, una lampadina. Raghi. Non lo so, usciamo, va. Ma raga, mi vedete? No. Sì. Basta chiederlo. No, io non lo vedo, eh, raga. Davvero? Chiara, perché sei cieco? Ah, giusto, dimenticavo. Ti dico che c'è. Ora riattacca la clip dove hai gli occhiali da solo. Ma non ho occhiali da soli in casa. Sono io da solo. Gli occhiali sono in compagnia. Allora gioca di nuovo. Chiara lì da solo. Chiara lì da solo. Ma l'ho fatta! Perché gli dite sempre per le battute che ripetono gli altri dopo che l'ho fatta io? Ma scusa! Eren, io gli occhiali da solo. Chiara lì da solo. Ma ha detto qualcosa, Tier? Andate, vado in bagno, raga. Ah, ok, è andato in bagno. È bello che può pure sentirci perché ha le cuffie wireless. Comunque Eren top l'ha battuto occhiali da solo. Cuffie wireless, Trust Gaming, link in descrizione. Per l'ho, ma è una carta. Tier devi giocare... Ok. Io in realtà, adesso che non c'è Tier, voglio dirlo. Io in realtà Tier lo considero uno dei miei più cari amici e li voglio tanto bene. Minchia, ora non sta soltanto pisciando. Cioè, vi rendete conto che siamo noi a fare il content nei video di Tier? Adesso lateralmente stiamo tirando avanti noi un video. Esatto. Stiamo tirando la carrezza. Dani, sai che quando hai detto che sono tuo amico e avevo l'uccello in mano? No, Tier, ti prego. Tier. E' scrollato fortissimo. Madonna, adesso ce l'ho un barzotto. No, non c'è un barzotto. La parola barzotto è splendida. Lo so che ora è bellissima. Mi dà fastidio perché mi dà fastidio. Non lo so perché non dirlo. Ma è una bella parola. Ma forse il fastidio ha recato dal fatto che ti sia tenuto l'uccello in mano mentre dicevo che ti volevo bene. Grazie, dai, mi diamo anch'io. Quindi pesca due carte e stai zitto e dimentica quello che hai sentito. No, no. Dai, ma l'affanculo, raga. L'avatar di... Oh, frate, come hanno potuto farti questo, frate. Guarda che hai iniziato tu, eh. Guarda, guarda come l'ho... Ma no, ma... No, Eren! Eren è crashato e da allora è crepato proprio. Eren? Simo si rifiuta di parlare. Simo? Eren si è mutato su T. Madonna! Spero non sia successo nulla di grave. Ne so, magari è fuggito al volo. Ma chi è il puttano che mi ha cambiato... Ah, grazie. Ma no, stronzi. Ma questi sono le mie carte di prima. Simo non lo voleva fare questo video. Si è pentito di aver accettato. Però mi sento solo se non mi rispondi, Eren. Mi sembra di fare i video da solo. Raga? Raga? Ok. E' vero, mi ha mandato un messaggio su T. Se ora gioca ma stai zio. Stronzi. Raga, comunque posso dirvi una cosa? Mi sto divertendo proprio il mondo. Voi siete i miei migliori amici. Grazie, Dani. Parlavo con Emerald e il bot. Al pudding, mi raccomando. Ricordi di domani sera, pocherino tattico del mese. Ma ti vieni a conto che c'è gente davvero tanto sola da ritenere i bot di uno, amici? A proposito di bot di uno e altra gente, ti ricordi quando abbiamo fatto quel video di uno? C'era quel ragazzo di Bangladesh. Sì, quello indonesiano, sì. Da quel video ho dovuto tagliare il mondo perché eri un po' brillo dopo la partita del video che hai detto a vedere allo stadio. Io ti avevo detto, Tiar, ma India non è un modo più corto di dire indonesia. No, Dani. Ma poi ti sei messo a parlare di politica e cose varie. Eri bellissimo, Dani. Ma a questo punto, Simo, lo devo mettere nel tuo canale in descrizione. Non che ti cambi qualcosa perché ti faresti un iscritto in più probabilmente, però... Tranquillo, ci penso io a farti fare le views. Metti il mio nome. Ma non metto il nome di nessuno nel titolo, lo metto in descrizione. Ah, è vero, c'hai ragione. Simo? No, no, mi preoccupo. Non vorrei che fosse successo qualcosa in casa. No, aspetta. Secondo me può ritornare solo in un modo. Cioè? Ora te, parlami, ti prego, ho bisogno di te. Oh, Brozky. Dopo sta partita che stiamo finendo, la quittiamo e puoi rientrare e giocare. Lo fai per me? Va bene, Bro. Grande, apposto. Grazie, amore. Aspetta che rispondono a queste sgrille su WhatsApp e ci sono. Madonna, queste sgrille, ma che vogliono? La parola sgrille non l'avevo mai sentita. Oh! Che culo. Ok, Eren, abbiamo finito la partita. Madonna, ha fatto 260 punti. Quanti punti ti metto, Tier? 300? No, ma metti i punti a caso. 200. Farò un'altra di partita sulla posta. 200 partiti. Non 200 partiti, 100 punti. 200 partiti? 200 partiti? Cazzo, adesso facciamo una live di 12 giorni in cui giochiamo 200 partite di uno con la pesca a strascico. Bro. Bro. Io mi sto divertendo a giocare a uno, tu ti stai divertendo. Trotto. Mi sto divertendo. Ok, Tier, chiediglielo tu. Eren, ti stai divertendo a giocare a uno con me, Dani e me? Adesso quitta di nuovo. No, no. Non quittare. Eh, madonna! Non schiarirti la gola che proprio mi fai sentire una nullità. Eren, considerami. Broski, ormai sono intrappolato in questo loop. No, vabbè, ma lo so che ti ha fatto il controllo della mente qualche mago malvagio. Oh no, cazzo. Black mago merlino. Io conosco Dark Magician, che è il mago nero. Ma aspetta, mago nero non è una carta di Yu-Gi-Oh. Mago nero è una carta di Yu-Gi-Oh, ma io preferisco la versione spagnola. Cioè? No, no, non dirlo. Ci sono arrivato troppo. Ci sono arrivato troppo. I twitcher spagnoli. Cioè, come fanno? Loro possono. Ah, ok. Loro hanno l'N-World Pass. Voglio fare una live dove supero il confine spagnolo. e dico subito N-Così. E pepe, no. Insieme. Grazie, Dani. Ma aspetta, non doveva essere una cosa piacevole. In realtà lo è stato. Osh. Come quella la prima volta che l'ho preso in culo. Non pensavo non sarebbe stato piacevole, eppure. Vi ho mai raccontato di quella volta che ero ad una festa e ho avuto a che fare con gente strafatta di funghi? No. Puoi raccontare, per favore? Inizio a raccontare e dici no, non mi interessa, grazie. Ecco, quindi non vi raccontare. No, 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 no. Ma sono interessato. No, non racconto, racconto dopo, così so che sei davvero interessato. Perché se lo dico nel video mi trattate male. No, 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 no. Io non ti trattavo male, veramente. Allora, seriamente, quando mai ti abbiamo trattato male in un video? Sempre! Adani sta ridendo il buco del culo. Segue, segue, montaggio epico di maltrattamenti a fiarne i video con sottofondo Eye of the Tiger. Il video dura 14 ore. I got the eye of the tiger. No, hai sbagliato canzonissimo. Quello è che ti perdi. Comunque, raga, se mi donate, parlo agli spettatori di questo video. Se donate 50 euro alla mia PayPal, cambio espressione nell'avatar. Perché non è un avatar, ma è la mia facecam. Come fai a parlare di ventrilo? Anni di ventridie, di scuola di ventrilo qui. Ma io posso mettere la facecam? Sì, volendo sì. Perché, Emerald? Cosa volevi mostrarci? Il cazzo. A parte il tuo, cazzo. Guarda, non entrarebbe nell'inquadratura. Eh, vabbè, ho capito. Tecnicamente sì, se ti allontani abbastanza. Cri, 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 cri. Vabbè, grazie. Da ieri stanno facendo le impalcature fuori da casa mia per sistemare tipo la facciata così. E io ho una finestra. Ho messo il cartonato di Jason che guarda fuori. Passando i lavoratori si trovano stacca. Sì. Che cosa è bello. E soprattutto si vede anche dalla strada. Ci vuole qualcosa di più raffinato tipo Johnny Sins che guarda fuori dalla finestra. Se c'è un suo cartonato non me lo vado a comprare. Secondo me c'è. Perché non ci sia su Amazon? No. Eren. Ti cura? Vabbè, se vinci tu è come se avessi vinto anche io. Però se vince Emerald, no. Il maledetto mangia cannoli. E se vince ti era un disastro. Che cazzo? Ton, ton, ton. Ah, no, vabbè. Ce li siamo girati. C'è, raga, quella carta è la puttana di turno, insomma. No, vabbè. Mi sa che Emerald ne è un altro. No. Peccato, raga. Ma pesco per trovarlo. No, niente. Oh, yes. Continuo a pescare quando non trovo un set. No. No, da... Tier, per favore, possiamo rifarlo? Sì, tranquillo. Vai, vai, vai. Grazie, grazie. LOL. Non c'è un set. Tier. L'altra possibilità. Non le ho finite. Cazzo. Dai, raga, sta finendo questa... sofferenza. No, perché ora voi cambierete colore e io pescherò tipo dieci carte. Dani, che colore hai? Oh, Cristo. È giallo. Ah, non posso... Mi spiace, non posso aiutarti. È finita. È finita. No, raga. È finita. È colpa vostra. C'è il circuito. Oh. È finita prima del dovuto. No, mi faceva ridere Simo che aveva già il tastino pronto sull'abbandona. Ah, 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 ah. Vajeme, voglio aiutarti. Ma sei con... No, no, Dani! Dani! Ma l'ho cliccato, raga! Scusate, raga, ma il mio senso di polizia... ...mi ha soggiocato. Ora la devi pagare. Mi ha soggiocato. No, frati. Oh, no. Tanto se le riprende dopo. Fino al prossimo set. Ne ha altri due. Non so perché se è così... No, no, l'ho fatto apposta per liberare carte. Ma Diego che avvia... Diego che avvia... Ma serve ancora minutaggio per content oppure... Ma figurati, no. Sto cercando di chiudere la partita. Ah, ok. Allora non gli tiri più due. Che cazzo... E non posso tirare un cazzo. Che è scout? Eh, no. Eh, no. E c'hanno più quattro, raga. Non potevo fare altro. Grandi, raga. Lavoro di squadra. Va bene anche così. Va bene anche così. Quattro giallo. LOL. LOL. Raga, 22 bombe. Aspetta, ti serve blu o giallo, Eren? Ma per... Giallo, ma perché avete messo blu? Tranquillo. Salvo la situazione. Yes. Ok, ciao. Ciao.